Ciao! 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 Ciao a tutti! Poi tagli tutto! Poi tagli tutto! Poi tagli tutto! Poi tagli tutto! Eccomi un dono! Ah! Wow! Di dono! Sì! 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 Allora! Allora! Grazie a tutti. Allora, dagli altri punti, faccio vedere come funziona il moschettone, semplicemente hanno una sicura cadatta da questa parte, devi pizzicare questa levetta o di qua o di qua, e di cosa succede quando pizzico? Si alza il pepuccio, non sente la leva di a pizzo. Sì. Per me avevo un po' bene. Tre, una, due. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Oh Ehi, come è andata? Bene anche queste Siete pratici? Se no ti tirano su di nuovo Siamo ancora vivi? Più o meno Sì Vuoi io? Vai vai Sai farlo? Sì Ok Il rossio Attenzione C'è qualcosa che ti dà noia da limbrato? No, a parte l'imbrato Grazie mille, scusa Non si sa mai Arrivano il calcio volante Ti senti bene? Si fa tutto, ok? Sì, sì Grazie, ciao 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 Grazie a tutti. Eccomi! Eccomi qua! Lì da un'intervista! Sì! È un po' bruttino lì. Mi viene a fare un ciao. Come va? Oh, mi stai riprendendo ancora. Fantastico! La seconda è già più sciolta, dai! Eh sì! Non più sciorta! Devo spegnere? Per chiudere! Aspetta! Non più sciolta! Non più sciolta! Non più sciolta! Non più sciolta!